Vittorio Tosi, grande protagonista di questo 2 a 2 fra Cuneo e Moretta, una grande partita da parte vostra, bisogna dirlo, un primo tempo da alto livello, poi c'è stata la battagliare nella ripresa, per voi un punto importantissimo. Sì, è stata una battaglia dall'inizio alla fine, secondo me il punteggio ci sta persino stretto perché per come abbiamo giocato, per come andata la partita meritavamo qualcosina di più, poi alla fine è successo anche un po' di casino a fine partita, ma ci sta, fa parte del gioco. Sono contento della prestazione dei miei compagni, del risultato, fa bene sia per il morale che per la classifica, quindi continuiamo così. Anche in questa partita vi siete dimostrati in un ottimo momento una squadra in salute, questo Moretta che si è tirata fuori dalla zona play-out e che sta raccogliendo in questo periodo quello che forse aveva perso nel resto del campionato. Esattamente, stiamo raccogliendo quello che facciamo durante la settimana, da un periodo piuttosto lungo, stiamo portando avanti anche i punti che sono quello che conta alla fine di questo gioco, però diciamo che siamo sulla giusta strada per riprenderci anche quello che ci spetta, visto un girone di andata non troppo fruttuoso per noi, stiamo prendendo quello che ci spetta da più giornate da questa parte. Ecco, oggi due doppiette d'autore, la tua e quella di Armando, insomma per te anche un ottimo momento perché anche in zona gol nelle ultime settimane stai cercando e stai provando a fare la differenza. Sì, personalmente fa bene perché mi dà molta più fiducia, però ripeto l'importante è portare punti in casa, poi sono felice di aver segnato e di trovare continuità perché anche per me il girone di andata non è stato molto positivo, però ora sto trovando anche il gol e piano piano cerco di portare avanti anche il mio obiettivo personale.